Ciao Renzo, ciao Paolo, ciao a tutti, buonasera, siamo di nuovo qua, dove avevamo lasciato... Io non vedevo l'ora, te lo posso dire, non vedevo l'ora di ricominciare a fare questa trasmissione che abbiamo così un po' sperimentato l'anno scorso, la stagione scorso, perché sempre in questo 2007 siamo partiti a febbraio, abbiamo fatto sino a fine giugno, quindi poi abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni, vi ringraziamo naturalmente per quello che ci avete dato, però poi dopo la pausa adesso a riprendere c'è sempre un po' di emozione, immagino anche un po' di ruggine. Beh certo, la prima, questa è la puntata a zero, quindi saremo un po' di geniti comunque. Spero che ci vogliate scusare. L'entusiasmo nostro è tutto in noi, no? Ci siamo, ci siamo, siamo pronti per ricominciare, allora come vi abbiamo già comunicato in qualche modo e comunque è come vi confermiamo, la puntata di Sport TV non va più in onda il giovedì, ma va in onda come vedete al venerdì sera, quando saremo a regime, quindi penso già, spero, già dalla prossima puntata o faremo un altro numero zero come questo, oppure comunque quando saremo a regime la durata della trasmissione sarà di un'ora e non più di 45 minuti, perché anche grazie al vostro aiuto abbiamo tanto materiale da mostrarvi e da presentarvi e quindi anche uno sforzo organizzativo non da poco. Certo. Quindi venerdì. Dalla prossima poi ci saranno anche i nostri amici sponsor. I nostri sponsor. Si saranno pronti a presentarsi, sia i vecchi che i nuovi. Stiamo preparando gli spot, stiamo finendo di preparare gli spot e poi la replica, anche questa è una cosa importante perché avremo una replica nella sera stessa, nella sera stessa del venerdì, intorno alle 22.45.23, adesso vediamo. Comunque l'orario di partenza, la prima battuta, venerdì ore 20 dopo, praticamente dopo il TG, dopo il TG di Marzia. Venerdì 26. Esattamente. Allora niente, iniziamo con questo numero zero e tu volevi dire qualche cosa di calcio? Sì. No, ricominciamo da dove siamo rimasti, Inter prima in classifica, Juve dietro. E io gli devo rispondere che comunque la Juve per essere una neopromossa sta andando molto bene, sta andando molto bene perché non è successo molto spesso che una neopromossa in partenza possa già essere ad alti livelli, cosa diciamo, secondi classifiche? Secondi, siete secondi con la Roma ma noi sempre su primi. Comunque non parliamo di calcio in questa tradizione, quindi parliamo degli altri sport. Ne parliamo un pochettino verso la fine, ne parliamo un pochettino verso la fine dandovi qualche appuntamento e qualche situazione di calcio alternativo, comunque sempre come avevamo fatto anche nella passata edizione di Sport TV. Allora iniziamo, abbiamo un po' di servizi, vediamo di andare avanti adesso dopo questo dovuto inizio, questa dovuta apertura. Iniziamo con i servizi, iniziamo con il Coastal Rowing, ve l'abbiamo già parlato. Il Coastal Rowing è una specialità emergente del canottaggio, una sorta di canottaggio estremo invece di stare dentro a specchi d'acqua calmi e riparati, il Coastal Rowing si fa proprio lungo la costa, quindi ci può essere il mare mosso, ci possono essere le onde, ci può essere il vento e il campionato italiano di Coastal Rowing si è svolto a Sanremo sabato e domenica scorsa, adesso proprio domani, da domani a domenica a Cannes Mandelieu si svolgerà addirittura il campionato mondiale, ma la grande notizia è che nel 2008 il campionato mondiale si svolgerà a Sanremo. Allora vediamo questo servizio dedicato al Coastal Rowing, campionato italiano che si è svolto nello scorso fine settimana proprio a Sanremo. Oltre 40 equipaggi hanno partecipato nelle diverse categorie in gara alla seconda edizione del campionato italiano di Coastal Rowing organizzato come l'anno scorso dalla Canottieri Sanremo. Il Coastal Rowing, letteralmente tradotto dall'inglese significa rematura litoranea, è una specialità emergente del canottaggio lanciata dai francesi ai quali si deve l'invenzione per esempio diversi anni fa del windsurf, diventato rapidamente una affollata specialità olimpica. Con questa fondata speranza il Coastal Rowing si propone come canottaggio costiero, non confinato in specchi d'acqua e bacini solitamente protetti dal vento e dal mare mosso. Anche la percorrenza è decisamente più lunga, nei vari campionati, come quello andato in scena a Sanremo domenica scorsa, c'erano da coprire 6 o 12 chilometri a seconda delle categorie in gara. Partenza dalla spiaggia dell'Imperatrice, direzione ponente verso la boa posizionata davanti a Caponero, ritorno sino all'altra boa davanti alla diga forane di Portosole e arrivo dopo uno o due giri, sempre a seconda della categoria, nuovamente davanti all'Imperatrice. Ad aggiudicarsi le prove principali sono stati gli equipaggi del Circolo Canottieri Saturnia nel 4 con, l'Azzurra Civitavecchia nel doppio, la Canottieri Genovesi Elpis in campo femminile e la Santo Stefano al mare nel doppio femminile con Alice Lombardi e Silvia Franchino. In questo fine settimana tutti gli specialisti del Coastal Rowing si trasferiscono nella vicina Costa Azzurra dove le città di Cannes e Mandelieu organizzano il Mondiale. Tra di loro vi sono anche i vertici della Canottieri Sanremo, cui è già stata affidata l'organizzazione del Mondiale 2008. Sentiamo a questo proposito il presidente della società sanremese, Walter Vacchino. È un pensiero che da una parte preoccupa, dall'altra emozione e dall'altra entusiasma. Devo dire che questo secondo campionato nazionale ci ha dato la forza per incominciare da subito, ovvero dalla prossima settimana andremo a Mandelieu a vedere il primo campionato mondiale che organizzano i francesi per riuscire a capire quelle che sono tutte le esigenze perché passiamo dalle 27 società del campionato nazionale alle circa 100 società con 16-20 paesi del prossimo anno. Quindi è un impegno straordinario, diverso, però la forza ci viene data proprio dal mare e dalla gioia dei vogatori quando sono sull'onda che hanno un tipo di vogata che è la differenza tra la bicicletta da pista con la bicicletta da fuoristrada. Siamo per forza di cose abituati a fare il canottaggio in mare perché il nostro specchio acqueo di allenamento è il bacino portuale che è piccolo e quindi per forza di cose qualsiasi cosa che ci permetta di affrontare l'onda e il mare è benvenuta. Costa Roving è questa nuova disciplina che ha anche una vocazione turistica e quindi sposa il nome di Sanremo e sposa l'attività sportiva della canottiera. Nella gara mondiale di Cannes, iniziata oggi con le batterie di qualificazione, risultano iscritti oltre 500 atleti per 170 equipaggi tra i quali anche un armo matuziano, giunto secondo agli italiani nel 4 di coppia master e composto da Stefano Pioli, Renato Alberti, Alessandro Zunino, Giovanni Buquicchio e timoniere Federico Salesi. Oltre che da Vacchino e dallo stesso Alberti che è vicepresidente della Feder Canottaggio, a rappresentare il comitato organizzatore della canottiera di Sanremo a Cannes ci sono anche Onorato Lanza e Renata Alvarelli. Ebbè belle immagini, spettacolari. Passiamo ai motori ora, scatta domenica la 36esima edizione del rally delle valli imperiesi, un classico per gli appassionati del ponente ligure. Prima del via abbiamo intervistato Franco e Giuseppe Gallucci, padre e figlio di Sanremo, che parteciperanno alla prova. Tutto è pronto per il via del 36esimo rally delle valli imperiesi che scatterà domenica mattina alle 8 da via Queiroli ad Arma di Taggia. Alla partenza sono attesi oltre 100 equipaggi che si daranno battaglia lungo le strade del nostro introterra per complessivi 308 chilometri, dei quali 82 saranno di prova speciale. Sono tre e tutte su asfalto le speciali da affrontare, le Belnotte, Passo, Teglia, Caravonica e Ville, da percorrere tre volte ciascuna per un totale di 9 PS. Tra i favoriti ci sono Danilo Ameglio e Massimo Marinotto, che si sono aggiudicati l'edizione dell'anno scorso su Peugeot. Il savonese Silvio Leporaci, in coppia con Massimiliano Pinter su Subaru Impreza e Sandro Sottile con Marco Nari su Honda Civic. Tra i Sanremesi iscritti è anche un equipaggio familiare, Franco e Giuseppe Gallucci, padre e figlio che a bordo della loro Fiat cercheranno di divertirsi e di ben figurare. Ho voluto di nuovo provare con mio figlio, anzi mi ha insistito veramente lui che non posso dirci di nuovo, ho una soddisfazione anche personale di avere un figlio che pratica lo sport che a me piace e se mi è piaciuto. Speriamo che va tutto bene. Farete questo rally su una Fiat? Su una Fiat 1, omologazione scaduta, speriamo di non vincere il gruppo OS, se poi lo vinciamo ancora meglio. Un percorso impegnativo perché ricalca un po' il rally di Sanremo, no? Sì, sono tutte le prove del rally di Sanremo, anzi, sono prove molto impegnative, guidate e veloce, tipo la prova di Mendatica è una prova velocissima. Poi abbiamo il Telia, che è la prova più bella che secondo me c'è nella nostra zona. Speriamo che va tutto bene, dai. Franco, tu quando correvi c'era lo sterrato, oggi è tutto sull'asfalto, c'è diversità di guida, no? Purtroppo Paolo sì, forse tu te lo ricordi perché anche tu hai cementato su quelle prove lì, erano tutte prove piene di, con la terra, ecco, facevamo il Sanremo sulla terra, parliamo del 74, 75 e dopo purtroppo è arrivato l'asfalto. Quindi sei pronto per questa partenza? Prontissimo. Benissimo, passiamo a Giuseppe, il figlio, tu farai da navigatore a tuo padre? Farai da navigatore a mio papà, è la mia prima esperienza come navigatore, sono molto contento di questo. Niente, è stata una cosa così, improvvisata con mio papà e sono molto contento, ho solo che da imparare con mio papà. Comunque tuo padre quando correva, che era giovane, ha sempre ottenuto degli ottimi risultati, quindi speriamo che si riprovi. Direi di sì, e poi mi può solo che insegnarmi, con l'esperienza che ha avuto, 30 anni di corse, e tanti tanti rally, tra cui 14 rally mondiali. La macchina è a posto? La macchina diciamo di sì, è a posto, qualche problemino alla penultima gara che abbiamo fatto, è l'ultima gara, abbiamo risolto qualche cosa e ora andiamo per il meglio, andiamo, dai. Bene, in bocca al lupo e vi aspettiamo al traguardo. Ok, grazie, crepi. Ecco allora, 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 tu gli hai fatto una domanda e gli hai detto, allora al figlio gli hai detto, allora papà quando era giovane otteneva dei buoni risultati, ma vogliamo dirlo che quando era giovane anche Paolo Staltari faceva i rally. Comunque... Ne hai fatti i risultati? Sì, sì. Non si parla, sei modesto, sei modesto, non vuoi dire quali sono i risultati. Ci sarà questo adesivo, Gallucci, sì, Franco e Giuseppe, ci sarà questo adesivo di SportiV Telenord. Ecco, poi lo metti anche uno sulla tua Vespa, sul parabrezza. Lo attacco perché mi piace troppo. Va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti perché stiamo un po' divagando. Un altro servizio, lo scorso fine settimana l'avvenimento Clu a Sanremo si è svolto al campo ippico del Solaro. C'è stata la disputa della Tre Giorni denominata Derby dei Fiori perché la gara più importante era proprio quella del Derby dei Fiori che si è svolta domenica pomeriggio, quindi con una bellissima giornata di sole. Sono state tre giornate veramente molto belle e molto molto promozionali per Sanremo e per lo sport dell'equitazione e naturalmente anche per la società ippica Sanremo che ha organizzato l'evento. Vediamo. Il Cavaliere Silvano Graziotti, 48 anni da Como, si è aggiudicato il prestigioso Derby dei Fiori, la più importante e spettacolare prova della Tre Giorni di Salto ad Ostacoli che si è svolta nello scorso weekend al campo ippico del Solaro. Al via nelle diverse categorie quasi 200 iscritti in rappresentanza di 10 nazioni. Francia, Brasile, Austria, Germania, Principato di Monaco, Svezia, San Marino, Belgio, Svizzera e ovviamente Italia. Il Derby dei Fiori, prova tipica di salto con escursioni fuori dal normale campo di gara e di lunghezza vicina al chilometro e di conseguenza una durata di percorrenza molto elevata, ha raggiunto vette di grande spettacolarità e si sta nuovamente ritagliando uno spazio importante nel panorama dell'equitazione nazionale ed internazionale. In passato il Derby aveva raggiunto vette di popolarità elevatissime, la sua prima edizione risale al 1988 e dopo sei anni celebrò la sua ultima apparizione nel 1993, quando insorsero problemi di varia natura presso l'organizzazione che era allora affidata ad un esterno. Dall'anno scorso l'allora presidentessa della società ipica Sanremo, Maria Grazia Valenzano Menada, in piena sintonia con l'amministrazione comunale, decise di far rinascere il Derby dei Fiori dalle sue ceneri e la passione nel mondo equestre è subito esplosa. Nel 2006 al Via furono circa 120 binomi, quest'anno la cifra è cresciuta di oltre il 50%. Anche la Rai ha deciso di seguire e trasmettere sui suoi canali satellitari la manifestazione e gli ha concesso addirittura un'ora e mezza di differita con immagini spettacolari e che hanno proposto un vero e proprio spot sia per la città dei Fiori che per il campo del Solaro che per l'equitazione in generale. Sentiamo la valutazione in tal senso di Angelo Geirola, presidente del Comitato Ligure della Fise, Federazione Italiana Sport Equestri. Abbiamo avuto qualche anno di interruzione perché dall'88 al 93 tutti gli anni si è sempre disputata questa bellissima gara, poi c'è stato un attimo di breakout, dall'anno scorso è stata ripresa con 100-120 partecipanti, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di averne quasi 200, quindi un grande successo e poi nel calendario nazionale il Derby di Sanremo è sempre il Derby di Sanremo. Ecco, al di là del Derby in generale questo è un circolo che comunque si sta mettendo in grande evidenza per la sua organizzazione e anche per dei risultati che arrivano dal punto di vista agonistico. Certamente, beh, quest'anno intanto la Società Bica di Sanremo ha organizzato tre concorsi internazionali e un concorso nazionale 4 stelle che è uno dei massimi livelli dei concorsi nazionali. hanno tantissimi ragazzini, soprattutto nei poni, le nostre giovani speranze che diventeranno, a mio auguro, dei futuri campioni dell'equitazione italiana. La Società Ipica Sanremo sta vivendo un momento di grande fermento, le continue iniziative promozionali ed organizzative del suo consiglio che propone ben quattro concorsi all'anno, tre dei quali internazionali, la presenza costante di cavalieri di caratura mondiale come ad esempio Luis Felipe de Asevedo, due volte medaglia di bronzo olimpica con la squadra del Brasile ed un'attività di base in crescita costante fanno di questa società uno dei fiori all'occhiello non solo di Sanremo ma di tutta la Liguria. Bella immagine, bella manifestazione perché veramente tanti partecipanti, fiori ce n'erano veramente tanti, c'è stato veramente anche uno sforzo economico da parte dell'organizzazione per rendere il più bello possibile poi gli apprezzamenti inevitabilmente arrivano per il lavoro che viene svolto e per la passione che ci si mette per rendere sempre più bello questo circolo che è veramente Maremonti perché in cinque minuti dal mare si va al campo Ipico di Sanremo ed è l'unica struttura penso in Italia che abbia una struttura naturalmente di equitazione che abbia una capacità del genere. Poi sono aumentati i partecipanti dall'anno scorso a quest'anno vuol dire che a Sanremo vengano volentieri. Se vengono dalla Svezia, dall'Austria, dal Belgio, dalla Svizzera e trovano tre giorni di sole così a metà ottobre questo è un colpo anche turistico di grande importanza. Benissimo, passiamo a un altro sport. Ha preso il via sabato scorso il campionato di Serie A di Bocce. In uno dei gironi nazionali figurano due squadre della nostra provincia. La Roverino Ventimiglia e la Bocciofila Armese. Siamo andati al bocciodromo di Arma di Taggia per vedere com'è andata. È stata forse colpa dell'esordio ma la partenza della stagione agonistica della Bocciofila Armese ha lasciato qualche rimpianto. Contro l'ausilio Saluzzo la formazione del presidente Carlo Conte è andata subito sotto 10-2, un divario praticamente incolmabile tenendo presente che i punti complessivi a disposizione per ogni partita assommano a 20. Un miracolo avrebbe a quel punto potuto portare un pareggio e il miracolo non si è avverrato. Ma gli armesi ci sono addirittura andati vicino concludendo la sfida con i più quotati piemontesi col punteggio di 12-8. Partenza con sconfitta comunque anche se non sono mancate le indicazioni positive. Sentiamo il segretario storico della Bocciofila Armese Giovanni Bracco. Il pubblico assiste con entusiasmo alle prime fasi dell'incontro che vede di fronte appunto l'Armeta al Saluzzo. Prima di assistere alla fase conclusiva dell'incontro possiamo dire che anche lo sport delle voce merita considerazioni in luoghi anche diversi dalle voce. Infatti l'organizzazione che comporta un torneo della massima categoria non è indifferente e quindi noi ci aspettiamo che anche nelle successive prove di campionato il pubblico vorrà essere numeroso perché è una componente importante anche il pubblico perché l'entusiasmo è quello che ci fa portare a dei traguardi magari inaspettati. Ma dopo la prima partita che c'è stata la prova tradizionale poi ci sono state le varie prove vuole elencarle tutte? Dopo le iniziali partite tradizionali a coppie eterne e quella della prova del combinato vinte e tutti dallo giro di Saluzzo abbiamo visto la prova rapida della staffetta una prova nella quale si alternano due giocatori di una squadra e due giocatori di un'altra che si alternano di quattro voce in quattro voce nel colpire i bersagli. Anche in questa prova i nostri giocatori non sono all'altezza dei giocatori piemontesi che quasi professionalmente fanno questa prova che è una specialità che occorre una preparazione di tutti i giorni e non solo di una volta alla settimana come fanno i nostri giocatori che durante la settimana lavorano mentre altri più fortunati di noi magari hanno a disposizione di atleti che hanno più disponibilità di tempo. Comunque noi ci ripromettiamo andando avanti di poter colmare questa nostra lacuna. D'altra parte noi sappiamo perfettamente che i nostri avversari e gli avversari del nostro girone sono avversari di tutto il rispetto oltre a quelli che abbiamo incontrato oggi in una formazione assolutamente di primo ordine avremo altri avversari come la BRB di Ivrea e soprattutto la tubosider di Asti che sono formazioni che primeggiano a livello europeo. Comunque noi non ci consideriamo la ruota di scorta faremo tutto il nostro possibile anche al di là di questo per comportarci con onore e con chi che sia. E noi di TG Riviera dei Fiori vi seguiremo per tutto il campionato. Quindi siamo grati. È importante la vostra presenza a tutti i fini per fare assistere con il mezzo televisivo anche a chi magari di bocce non se ne è mai occupato come effettivamente meriterebbe un qualcosa di più da parte di tutti. La partita si è svolta nel bocciodromo al coperto indispensabile per poter giocare in Serie A ricavato nella zona presso le ex caserme Revelli davanti a un gran pubblico che ha anche dimostrato di apprezzare le novità portate dal regolamento della Federazione per rendere più spettacolari e varie le partite. Tra gli addetti al lavoro anche Fabio Balauco, dirigente nazionale della Federbocce. Inizia il campionato, inizia l'attività assolutamente più importante della Federazione Italiana Bocce perché è il campionato di Serie che è ormai giunto alla ventesima edizione e è un po' il fiore all'occhiello della Federazione. Naturalmente sono voluto essere presente in questa occasione soprattutto per le società del Ponente Ligure perché l'Armese è una delle poche società del Ponente Ligure che riesce da anni ormai a partecipare a questo campionato come lei si può immaginare con enormi sacrifici finanziari perché il campionato è un po' la chicca della Federazione però ha dei costi naturalmente come tutte le manifestazioni privilegiate delle federazioni nazionali che aderiscono al CONI e quindi ha dei costi non indifferenti. Poi ci sono i costi umani che riguardano anche l'organizzazione di tutta questa cosa l'importanza e la durata anche perché ricordiamoci che oggi è il 13 di ottobre e il campionato finirà poi praticamente prima di Alassio quindi nel mese di marzo e quindi l'impegno per le società non è da poco. E' proprio di questi giorni una polemica a livello nazionale per il ridimensionamento dei campionati prossimo anno solo tre rimarranno in Serie A di ogni girone e le altre tutte in una Serie B. Difatti questo qui è un campionato di assestamento dove non ci saranno retrocessioni proprio perché seguendo anche le indicazioni delle società partecipanti al campionato abbiamo voluto evitare di trovare degli incontri chiaramente sbilanciati e una stagione così lunga avrebbero poi pesato anche sul risultato sportivo e agonistico. Come tutte le cose ma soprattutto noi dalla Federbocce partiamo dal basso abbiamo chiesto alle società, ci sono state più di una riunione e questi due anni serviranno per riequilibrare i campionati creare effettivamente una vera super elite e creare poi dietro delle forme di campionati di partecipazione che possano portare delle società di medio livello anche a vedere la Juventus come può essere, come saranno poi la Tubo Sider, l'Ausilium quando vengono nel ponente per noi sono come trovare nel calcio la Juventus, il Mina o l'Inter in provincia quindi lo scopo è quello, non è di penalizzare nessuno ma di riequilibrare costi e ricavi per le società del ponente. Per un'intera panoramica del girone composto da sette formazioni di Liguria e Piemonte va detto che anche l'altra squadra del ponente Ligure, la Roverino Ventimiglia ha iniziato il campionato con una sconfitta in trasferta per 14 a 6 contro il Gaglianico mentre la Tubo Sider, Asti e Ciencese hanno pareggiato sul 10 a 10 il prossimo turno che si gioca sempre al sabato pomeriggio vede la bocciofila armese impegnata nel bocciodromo di Ivrea e il debutto casalingo della Roverino contro la Tubo Sider, Asti è uno sport che ha bisogno di essere seguito e di essere aiutato che sta cercando, proprio con queste modifiche al regolamento avete visto questa staffetta, cose un po' particolari, la bocciata eccetera sono modifiche che tendono a livello internazionale a cercare di portare le bocce alle Olimpiadi sono i primi passi però sembra strano che uno sport come le bocce che funziona da così tanti anni non abbia ancora avuto questo riconoscimento olimpico perché abbiamo visto negli sport e nelle Olimpiadi Invernali il curling che praticamente sono le bocce sul ghiaccio cioè ha avuto un successo clamoroso le bocce che bantano una tradizione ben più importante sono ancora lì che aspettano di entrare a far parte degli sport olimpici Comunque ora con queste nuove regole ci vuole una preparazione atletica perché il tiro rapido a staffetta in 5 minuti la prova combinata, 8 tiri alternati sempre di corsa il tiro tecnico di precisione, il tiro progressivo ci vuole una preparazione atletica che non è da tutti i giorni Assolutamente, di fatti cerchiamo anche di avvicinare qualche giovane in più a questa disciplina perché ormai questa disciplina ha bisogno non soltanto di precisione ma anche di forza fisica che non tutti sopra i 50 anni possono avere Comunque noi domani saremo a Ventimiglia per seguire la Roverino che giocherà contro la Tubo Sider-Asti mentre l'Armese sarà in trasferta a Ivrea e il prossimo venerdì vi presenteremo questo incontro della Roverino contro l'Ivrea Passiamo al ciclismo, c'è una notizia Paolo Ancora una bella prestazione di Lanzo Marcello ciclistica a Bordighera che si conferma atleta completo in tutte le specialità Dopo aver vinto più volte in Francia buon'ultima la vittoria di Gorbio la settimana scorsa le prove d'orgoglio a Bordighera al Giro 2007 oggi ha trionfato nel campionato regionale a cronometro in quelli millesimo Savona che ha richiamato nella Val Bormida un centinaio di concorrenti il percorso che ha prontato dai solerti Musso, Alforsi e Molle tracciato nel tratto in leggera salita da millesimo verso il lago di Osiglia 25 km di sofferenza che non hanno scoraggiato il campioncino di Bordighera che nella categoria segno regionale audace ha trionfato buoni se non splenditi gli altri componenti della trasferta provinciali dei vari lo curto laudisi vincente per la categoria B buon secondo posto per la coppia cagiero punturiero della Rolando Sport e a seguire i fratelli della Volta ciclistica a Bordighera e ancora Lombardi Maragò non male gli altri Camillot e Tonelli mentre la coppia mista Ginestra Freno giungeva al traguardo al secondo posto assoluto domenica prossima ultimo appuntamento per gli scalatori dell'Udace che si confronteranno a Monte Carlo, Mont de Moulet con i concorrenti francesi in quest'ultimo traguardo bene allora adesso l'ultima parte di questo numero zero della seconda stagione di Sport TV è dedicato al calcio però come sulla falsariga di quello che avevamo fatto l'anno scorso continuiamo anche per questa stagione e di fatti sta per iniziare una nuova stagione anche per la specialità del calcio dei non vedenti prima del via il Liguria Calcio che gioca abitualmente a Sanremo e che quest'anno ha trovato un'altra collocazione ancora migliore sempre nella nostra città ha presentato i suoi programmi e le sue speranze in un servizio che è stato curato da Lorenza Rapini vediamo Un altro campionato per la squadra Liguria Calcio non vedenti un impegno che coinvolge diversi ragazzi e che è sempre più radicato su Sanremo Sì, è vero facciamo un campionato che è di Valenza nazionale è un campionato assoluto di calcetto non vedenti ed è comunque su Sanremo che gravitano tutte le nostre attenzioni il nostro stesso consiglio gli allenamenti le partite in casa e quindi ci piace sempre comunque far presente questo che in effetti poi in Italia ci conoscono come Sanremo Un impegno concreto, un impegno importante per tutta la squadra possiamo paragonare questo campionato tranquillamente alla Serie A del calcio quindi vi muovete in tutta Italia, partite, trasferte? Certo, certo quest'anno ci sono due squadre in più quindi l'intero campionato è composto da nove squadre queste nove squadre sono state divise proprio per ragioni economiche in due gironi noi siamo nel Girona 5 giochiamo contro il Bari giochiamo contro la Roma l'Empoli le Marche si ha una cadenza grosso modo di una partita al mese proprio per riuscire a non avere un impegno che diventi troppo gravoso proprio sotto il profilo logistico perché chiaramente bisogna bisogna prevedere due giornate sicuramente per poter fare una trasferta anche soltanto nelle Marche Tutto questo ovviamente comporta dei costi come ogni sport come ogni squadra ovviamente avete bisogno di finanziamenti chi è che vi dà una mano? diciamo che poi alla fine il discorso dei finanziamenti è limitato ai rapporti personali con amici conoscenti abbiamo il comune di Sanremo che ci dà una mano appunto sul capitolo delle attività sociali perché in effetti poi la società è nata a Sanremo Fabrizio D'Alessandro ne ho bere merito dalla famiglia Sanremo sabato ne è una dimostrazione che facciamo attività cioè che insieme a riusciamo effettivamente poi a incitare sul piano sociale perché Fabrizio lui è un esperto di informatica insegna adesso può anche insegnare a ragazzi con handicap visivi e comunque è una realtà che qui c'è bene comunque sempre tanto di cappello tanto di cappello di fronte a queste persone a questi ragazzi che hanno dato tante soddisfazioni che sono riusciti anche a togliersi tante soddisfazioni perché ricordiamo che hanno un po' girato il mondo continueranno a girare un po' il mondo per partecipare ai campionati ai vari campionati europei mondiali sono stati in Grecia adesso non so com'è la situazione per le Paralimpiadi di Pechino vedremo di seguire sicuramente e di tenervi aggiornati su tutti quelli che sono i loro programmi futuri quello di positivo che c'è è che da quest'anno non dovranno più andare a vederli fuori gli sportivi ma li vedranno sul campo di Pian di Poma perché giocheranno tutto il campionato a Sanremo grazie alla Caminboy a Lucio Castagno che gli ha trovato uno spazio benissimo è una bella notizia anche questa Pian di Poma naturalmente al di là del comunale di Sanremo è sicuramente il punto di riferimento per tutto il calcio di una gran parte di questa zona della Liguria allora abbiamo così introdotto il discorso calcio in trassenso adesso vi facciamo vedere le immagini del campetto di calcio credo che si giochi a sette eccolo qua queste sono le immagini sabato scorso se non sbaglio è stato nuovamente finalmente inaugurato dopo una lunga attesa il campetto di calcio di Via Padre Semeria a Sanremo il cosiddetto campetto del Carmelo che per motivi che noi non conosciamo per un bel po' di tempo poi era stato lasciato all'abbandono e non era stato più fruibile mentre invece nei periodi precedenti io ricordo tutte le sere c'erano sempre le luci accese c'erano continuamente partite di amatori di forze di polizia tanti tornei tante sfide amichevoli che finivano spesso e volentieri davanti a una pizza o una birra si svolgevano su quel campetto poi ripeto per motivi che non conosco il campetto è stato lasciato all'abbandono e adesso grazie all'interessamento di un paio di privati alla buona volontà dell'amico Clemente si sono messi d'accordo tutti quanti il campo è stato ripulito adesso lo vedete in che condizioni è addirittura in futuro ci sarà anche la possibilità mi hanno detto di coprirlo con il sintetico allora sì allora sì che diventerà veramente una struttura una struttura in più nel panorama che è sempre comunque carente di strutture per la città di Sanremo e l'interessamento io so che c'è stato anche l'interessamento della Sanremese Calcio di fatti a questa giornata inaugurale c'era il presidente Gianni Gullo e c'era il patron Flaviano Tonnellotto che sono andati a questa inaugurazione a presenziare alla partita inaugurale che è stata una partita di giovanissimi calciatori della Sanremese e del Don Bosco di Vallecrose bene una buona notizia comunque dai bene poi adesso sempre per restare nel campo del calcio alcuni appuntamenti come davamo l'anno scorso in chiusura di trasmissione di fatti ci siamo ormai verso la fine alcuni appuntamenti la Sanremese in trasferta giocherà domenica alle ore 15 a Cirie diciamo che prima bisogna l'anno scorso parlavamo soltanto della Sanremese perché era in C2 e l'Imperia era in D adesso sono tutte due in D parliamo prima dell'Imperia che è davanti l'Imperia gioca a Ciccione l'Imperia contro la Lavagnese alle ore 15 una partita importante oltretutto la Lavagnese ha cambiato l'allenatore ci sarà Celestini no quello è Savona sono due squadre che stanno andando molto bene e che non devono cambiare l'allenatore perché appunto grazie proprio ai loro tecnici Riolfo tra l'altro il ministro dell'Imperia sarà squalificato perché ha preso una giornata di squalifica ma sono cose che possono capitare mentre invece appunto la Sanremese va a cercare di recuperare i punti che ha perso per sfortuna e per decisioni arbitrali avverse domenica scorsa soprattutto con la Sestese va a giocare a Cirie poi chi vuole invece seguire il calcio francese so che ce ne sono diversi che seguono il calcio francese il Monaco questo turno cioè domani sera va a giocare addirittura alla Gerlanda di Lione sul campo della prima in classifica squadra che ha vinto gli ultimi 5-6 scudetti consecutivi in Francia e tornerà a giocare a Montecarlo il prossimo turno il 27 in casa contro il Caen che è una squadra che la segue in classifica il Monaco dopo un inizio così così adesso sta un po' ha perso in casa anche l'ultima partita con Nancy e quindi è un po' nelle zone medio-basse della classifica chiudiamo con il calcio l'ultimo servizio di questa puntata zero il calcio da tavolo il calcio da tavolo che è una specialità un po' particolare il tempo si chiamava subuteo se vi ricordate adesso si chiama calcio da tavolo ed ecco vediamo le immagini che ci sono state gentilmente fornite dall'amico Carlo Alessi diciamo che è stato un grande successo di partecipanti e di pubblico il primo trofeo Open Sanremo di calcio tavolo svolto all'interno di Gioco Sanremo al Palafiori di Corso Garibaldi da venerdì a domenica scorsa sui 18 campi allestiti dal CT Imperia che è la squadra più importante della nostra provincia si sono sfidati attretti locali e nazionali tra cui sei campioni del mondo venerdì sera si è svolto il torneo amichevole primo trofeo pastificio a Rigo Learn and Play al quale hanno partecipato i giocatori del CT Imperia società appunto come detta organizzatrice e dei Saracens la vittoria è andata scusate la vittoria è andata a Gianfranco Calonico che in finale si è imposto agli shootout che sono praticamente i calci di rigori proprio su Carlo Alessi il nostro collega che tutti voi conoscete la partita infatti era finita sull'1 a 1 sabato invece si è svolto trofeo Master Gioco Sanremo con la partecipazione di tre campioni del mondo due numeri 1 in Italia la squadra migliore del nostro paese la vittoria è andata alla Stella Artois di Milano ottima stata anche in questo caso la prestazione del CT Imperia che dopo essersi qualificata per la semifinale è stata battuta dalla squadra della vincitrice e si è classificata al terzo posto la domenica infine sono stati tre i campioni del mondo a sbaragliare il primo torneo individuale Open Trofeo Auto 3 Daniele Bertelli si è giudicato alla vittoria battendo in finale Marco Perazzo il compagno Paolo Finardi ha vinto nella categoria veterans sconfiggendo in finale genovese Enzo De Bastiani nell'Under 12 facile vittoria di Solari che ha infilato quattro successi consecutivi e infine vittoria nell'Under 15 senza problemi per un altro iridato lo spezzino Niccolò Stefanucci bene è tutto abbiamo detto tutto l'indirizzo mail bravo grazie Andrea ci ha suggerito l'indirizzo mail diciamo che da venerdì iniziamo a tempo pieno ma mi sa che ormai con questa puntata quasi quasi se no abbiamo fatto un'ora mezz'ora l'abbiamo fatta tutta allora indirizzo mail è sempre quello dell'anno scorso sportivi chioccio la tg rivieradeifiori.it mandateci le vostre segnalazioni mandateci le vostre email abbiamo già sentito gli amici da Imperia 20 miglia li abbiamo già sentiti tutti stiamo per iniziare stiamo naturalmente la nostra trasmissione come è già accaduta l'anno scorso è un work in progress abbiamo tante idee per la testa e se ci date una mano vedrete che le realizzeremo e comporremo un prodotto sempre migliore e sempre più bello per tutti quanti ricordatevi sportivi dagli studi del tg riviera rifiori del telenord di sanremo tutti i venerdì alle ore 20 in diretta dagli studi ciao 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 a tutti ciao paolo ciao ciao buona la prima